Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Apre alle nuove politiche energetiche del governo e alle piattaforme di estrazione, tanto temute non solo dagli ambientalisti, il presidente della regione Abruzzo, Marco Marzilio, intervenuto a Visionaria, evento delle iniziative dedicate all'innovazione, organizzato dalla Camera di Commercio in corso di svolgimento a Pescara. Confrontarsi con la nuova realtà, dice Marzilio, nel tentativo, non facile, di conciliare esigenze energetiche e salvaguardia dell'ambiente. Siamo stati tra le primissime regioni in Italia ad approvare una legge regionale sulle comunità energetiche rinnovabili, abbiamo di recente anche ampliato la disponibilità di spazi utilizzando le superfici a standard dentro i consorzi industriali per fare in modo che gli impianti fotovoltaici e di energia rinnovabile possano essere realizzati lì dove c'è necessità di consumo energetico e non sui terreni agricoli di pregio. C'è una riflessione in corso che è necessario fare su tutto il territorio perché l'Abruzzo sarà investito ed è già investito dalle nuove politiche energetiche del governo che seguono alla necessità di eliminare la dipendenza dalla Russia e dai mercati esteri per il gas e quindi le piattaforme di estrazione nella nostra regione esistono ed è necessario confrontarsi con questa nuova realtà. Io spero senza atteggiamenti ideologici né da una parte né dall'altra. Dobbiamo trovare un punto di caduta nuovo ma una sintesi che permetta all'Abruzzo di tutelare, conservare e valorizzare la propria vocazione industriale e renderci più autosufficienti per rendere anche più competitive le nostre imprese e la nostra economia.